200.000 euro sono in arrivo alla Federazione dei Comuni del Campo San Pierese per la realizzazione di un progetto di riqualificazione messa in sicurezza della pista ciclabile Treviso-Stiglie in provincia di Padova. La Federazione ha assunto un ruolo di capofila in un progetto che nell'ambito del programma di sviluppo rurale della regione ha coinvolto anche i comuni di Curtarolo, Grisignano di Zocco e l'Unione Comuni Padova Nord-Ovest. Gli interventi prevedono l'asfaltatura degli accessi, passaggi semaforici e rampe di accesso di alcuni tratti, la realizzazione di parcheggi e aree di sosta con panchine, rastragliere per bici, cestini e fontane, quindi la segnaletica, la messa in sicurezza della tratta soprattutto nelle intersezioni con particolari attenzioni ai punti più critici in prossimità degli attraversamenti, infine la realizzazione di grandi mappe da posizionare lungo il percorso e il posizionamento di cippi chilometrici nelle tratte sprovviste.